Buongiorno e benvenuti a questa serie di stappa di oggi 11 dicembre, vediamo subito quali sono le notizie della giornata, ovviamente quella fondamentale riguarda il salva Stati, oggi si discute in Parlamento questa risoluzione di maggioranza, vediamo se hanno nella notte trovato un accordo sul MES, cioè su quell'assicurazione europea che secondo alcuni, il centrodestra, i sovranisti come vengono definiti, darebbe un colpo ai nostri disparmi e secondo altri sarebbe semplicemente una prosecuzione un po' diversa rispetto a quello che già c'era dal 2012, oggi in realtà la questione è più che tecnica e politica, cioè bisogna capire che cosa faranno quelli del Movimento 5 Stelle, il Corriere della Sera dice oggi tensione nel Movimento 5 Stelle, per il messaggero oggi il governo è appeso ai dubbi del Movimento 5 Stelle perché addirittura ci sarebbe un senatore, su questo si basano tutti in retroscena, che passerebbe e uscirebbe dal gruppo, il punto fondamentale è chiaro, il Movimento 5 Stelle deve capire, deve decidere se essere vicino alla Lega o essere vicino al PD, il Movimento 5 Stelle deve capire come poter, come possiamo dire, rimandare, rigettare tutta la sua area anti-europee, anti-cast, anti-establishment oppure rivendicare quello che ha appena fatto, cioè votato il Presidente Popolare dell'Europa, Ursula von der Leyen, che sembra uscita da un libro o comunque da Frankenstein Junior e che oggi ci spiega del Green New Deal insieme al Ministro Costa, insomma una specie di pippone mostruoso oggi sulla stampa, però insomma questo è chiaro, questo deve decidere. Cerasa oggi sul foglio fa un ragionamento di buonsenso, i governi, quando un governo non sa che pesci prendere fa i cronoprogrammi, la fase 2, i vertici di maggioranza, ecco questo è il senso di questo governo che in questo momento esattamente non sa bene come vedere nel futuro. Vi ricordo la battuta di ieri di Conte, ricordarsi Conte, toc toc, abbiamo fatto lo sprint nei 100 metri, un fenomeno, ma comunque oggi su Conte il titolo più divertente è quello di Libero, come spesso avviene, fa bello ciao, battene, ed è la foto di Conte verticale con un titolo diciamo piuttosto icastico del Libero, come è nel suo stile, nel frattempo le cose vanno malissimo, nel senso che non ci sono soltanto le crisi industriali, quelle note di cui parleremo tra poco, ma c'è una notiziona sul Sole 24 ore di 5 righe che vi segnalo, la notiziona è doppiamente negativa, primo perché riguarda l'Italia, secondo perché riguarda il partner industriale più importante d'Italia, cioè Germania, e cioè la produzione industriale di questo paese per l'ottavo mese consecutiva è scesa meno 0,4%, scusate, meno 0,3%, il che vuol dire che su base annua la produzione della nostra industria è diminuita del 2,3%, un paese senza industria come il nostro non cresce, in realtà il nostro partner industriale, cioè la Germania, più importante, non so se si fa un'auto, un pezzo è fatto dall'Italia, un pezzo è fatto dalla Germania, perché nonostante le follie dei dazzi, dei sovranisti, diciamo antelittera, ma siamo tutti molto collegati, l'industria metermeccanica di Brescia è collegata a quella della Baviera, se quella della Baviera non cresce è un disastro anche per la brecciana e qual è il punto? Che la produzione industriale italiana è la peggiore d'Europa dopo solo la Germania e questo per noi è un disastro, un disastro che non ci fa sorridere quello che avviene sull'Ilva di Taranto, dove ieri scioperano e ci sono tutti quanti i giornali che ne parlano contro Asserormiter, gli operai dell'Ilva, ma purtroppo dovrebbero scioperare contro i magistrati, contro i magistrati, questo è il vero, grande, unico, a ragione pane bianco, potere in questo paese, i magistrati hanno deciso di chiudere l'alto forno numero due, o meglio di non dare una proroga che aveva chiesto ovviamente i commissari dell'Ilva, non gli indiani cattivi, i commissari dell'Ilva hanno detto fateci, dateci ancora un anno di tempo per mettere a posto quest'alto forno due posto che si debba mettere a posto, ma diciamo che si deve mettere a posto, dateci un anno di tempo, sapete che ha detto? L'accusa ha detto ok, ve lo diamo a precise condizioni il Tribunale? No, non ve lo diamo, si chiuda l'alto forno due e chi se ne fotte di quelli che ci lavorano là? Chi se ne fotte? Perché il diritto alla salute è più importante di qualsiasi altra cosa, con un piccolo aspetto che il diritto alla salute è evocato, non è provato che non ci sia là, non esiste una sentenza che dica che lì si sta morendo per colpa dell'alto forno due, ma ovviamente Signorini dice oggi sul giornale l'accusa aveva dato il parere favorevole, ma il Tribunale se ne fotte alla grandissima. Nel frattempo domani ci sono le elezioni inglesi da guardare, oggi il Daily Mail, lo sapete, il giornale pop sovranista che io adoro inglese, ci spiega che Boris Johnson si gioca tutto, ma rischia anche tanto perché i sondaggi lo davano vincente per 68 seggi sui laburisti, in realtà i seggi sono scesi a 28. Staremo a vedere cosa succede domani in un paese in cui si vota il giovedì, io lo adoro, da noi sabato e domenica, noi siamo latini, loro votano giovedì! Bene, incanto, gran casino sulla Libia di Haftar perché oltre l'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, ci sono i russi che l'appoggiano, noi facciamo finta che non sia un problema, oggi in maniera secondo me molto giusta il messaggero con Orsini se lo ricorda e ci racconta questo scacchiere geopolitico dove un tempo l'Italia contava e dove oggi conta poco. Andiamo sui pettegolezzi, diciamo, giudiziari, beh, insomma, la Lega trovati i soldi riciclati, titolo del fatto che è cattivo con tutti, tranne che con Conte con se stesso, perché quando riguarda se stesso il fatto si autossolve, si prescrive, come è avvenuto per Travaglio il suo direttore, quando il fatto riceve una lettera da un avvocato la libertà di stampa! Invece la Lega trovati i soldi riciclati è chiaramente un falso, c'è soltanto la possibilità che un investigatore ha riscontrato che parte di quei 46 milioni di euro, cioè 450 mila euro, si è andati a un'associazione di maroni. Allora, ce ne sarà un processo, non si tratta di tutti i soldi, è una piccola porzione, però il titolo è Lega, trovati i soldi riciclati, ma sono stati davvero riciclati? Guardate cosa scrive Telese sul mio sito, fate Telese, soldi della Lega e capite bene che cosa è la vera storia dei 49 milioni. Nel frattempo, ovviamente, Travaglio piagnucola perché ha ricevuto una lettera dalla Casallati, ieri Travaglio alla Casellati, l'altro giorno ha fatto vedere una foto della Casellati con un ragazzo, figlio di una sua cara minchia, che ha patteggiato per molestie e ne ha costruito un caso della Madonna, l'ha Casellati dopo ennesimi insulti, diffamazioni, come pensa lei, manda una lettera di diffida al giornale e quello si mette a piagnucolare, ma io dico, è una roba da pazzi, da pazzi, vorrei ricordare, toc toc, Travaglio, se ci fossero state delle foto in quella famosa occasione in cui andasti al mare con un presunto mafioso, non mi ricordo neanche cosa, se ci fosse stata una foto di te in quella spiaggia e l'avesse pubblicata il giornale, quanto ti saresti arrabbiato? Un piccolo accenno ce l'ho, diciamo, di quello che ti succede quando si cita questa vicenda, ma ovviamente lui è intoccabile come intoccabile Conte, che invece, grazie al cielo, il giornale insieme alle Iere ricordano che ha una fattura insieme ad Alpa e la cosa di questa fattura fatta insieme ad Alpa e il problema che pone Sallusti è, ma non è una cosa pazzesca, nessuno può parlare di questa inchiesta delle Iere per il semplice motivo, perché se salta Conte salta il governo, così Conte si è fatto sostanzialmente giudicare nella sua idoneità professore da un suo socio d'affari, che non è una cosa che si può fare, ma ovviamente tutto è possibile se sei un 5 stellato, nel frattempo sul fronte della politica le sardine arrivano a Roma per la manifestazione di sabato, ma Giorgio Gandola oggi ci spiega che arrivano con i pullman della CGL, o meglio che la grande organizzazione è quella della CGL, toc toc Landini! Quando mi dici che ti stanno simpatiche le sardine, però non ce l'hai detta tutta, non ci hai detto che organizzi anche la logistica nella vostra piazza, che non è più solo la vostra di San Giovanni, ma comunque, insomma, il tempo invece ci racconta sulle sardine, questo è il gigantesco equivoco che il suo organizzatore di Roma ha detto a Casa Pound arrivate, poi dopo alla sinistra si è arrabbiata, ma come Casa Pound con le sardine, beh, insomma, poi dopo c'è un gran casino perché quei furboli di Casa Pound andranno, ma le sardine non le vogliono, ma li hanno invitati, insomma, fantastico, ma io direi che questi sono peccati giovanili di un movimento, diciamo, del PD che vuole darsi una regolata. Ultima questione, la manovra, nella manovra c'è solo merda, più la scoperchi e più trovi schifezze. Intanto un emendamento di Forza Italia, Fratelli d'Italia e della Lega che voleva la proroga del cedolare secca, cioè il 20% sugli affitti ai negozi, quello che abbiamo noi, diciamo, privati, beh, gliel'hanno cancellata, seccata con fedilizia. Ovviamente si lamenta, però sappiate bene che questo governo non vuole sui commercianti che ci sia la possibilità di avere tasse fisse che possano ridurre i canoni. E poi di Amazon, ma se non gli date la mano a questi commercianti, prima gli rompete i coglioni sui contanti, sul POS e su tutto quanto, e poi dopo non gli permettete di avere un mercato degli immobili che sia un po' più a prezzo, come possiamo dire, calmierato. Complimenti a questo governo, ma complimenti anche a Fratelli d'Italia, partito di destra, sociale, che si inventa, come tutti alle destre, una tassa sulla finanza. Cattiva! Cattiva! E questi sono riusciti a fare un gran casino sulla Tobin Tax, che è già una tassa assurda sulle transazioni finanziarie, che ha praticamente distrutto l'industria finanziaria italiana, che è andata all'estero a fare le stesse cose che l'Italia non può fare. Gli aumentiamo ancora le tasse con lo 0,4% della Tobin Tax, rivolta anche a altri strumenti rispetto a quelli precedenti. Insomma, il titolo è Fratelli d'Italia, almeno io leggo oggi sul Sole 24 che è un emendamento di Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia contro gli speculatori. Cazzate! Fratelli d'Italia contro quelli che lavorano nell'industria della finanza, che non sono dei perfidi sfruttatori, sono persone normali, normali. La finanza non è tutto schifo, la finanza è utile ed è ancillare a un'industria, è un servizio in un paese normale. Se noi continuiamo a tassarla, non c'è problema, la finanza continuerà a vivere, ma la faranno da altre parti in Europa. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo come sempre con la zuppa di domani e sul sito nicolaporro.it. Ciao!